Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Oggi vogliamo condividere con voi un evento speciale che si è tenuto ieri nella provincia di Ravenna che ha visto come protagonisti Antonella ed Edoardo i vostri amati Donnalisi. Prima di iniziare se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al nostro canale e ricordate che il vostro supporto è fondamentale per noi. Ieri presso l'agriturismo da Putec a Mensa Amatellica Antonella ed Edoardo hanno avuto l'ultimo incontro di questa stagione con i loro affettuosi fan. L'evento è stato un successo e dalle immagini che abbiamo raccolto possiamo vedere che è stato molto più di questo. Una foto in particolare ha catturato la nostra attenzione quella in cui Antonella abbraccia Edoardo. Avete notato come si guardavano? A noi è sembrato che ci fosse un'energia speciale tra loro più intensa rispetto al precedente evento ma ovviamente queste sono soltanto considerazioni personali basate su ciò che abbiamo potuto osservare. Anche perché nel corso dell'evento i due ex vipponi hanno risposto ad alcune domande dai fan presenti e alla domanda se la loro storia andrà avanti o meno Antonella ha risposto dicendo spero di sì. Va sottolineato che come sempre rispettiamo la privacy di Antonella ed Edoardo e le loro scelte di vita. Non vogliamo interferire o speculare sulla natura del loro rapporto ma ciò che possiamo dire è che sembravano felici e in sintonia. Ora ci piacerebbe conoscere il vostro punto di vista. Avete seguito il loro evento? Cosa pensate di questo momento speciale tra Antonella ed Edoardo? Lasciateci il vostro pensiero nei commenti e se qualcuno di voi era presente all'evento sarebbe fantastico sentire da voi direttamente. Raccontateci le vostre impressioni e sensazioni che avete provato di persona. Grazie di cuore per averci seguito anche oggi e continuate a supportarci con il vostro affetto. Vi assicuriamo che torneremo presto con altre novità. Un grande abbraccio a tutti voi!